Pesce di merda? Vai, vai, ora! Vai, 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 ora, 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 ora! No! No! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Maledetto! Ciao a tutti ragazzi! Sono Charlie e benvenuti nel mio nuovo video! E so che avevo detto che avevo messo la facecam in questo video, ma ho avuto tantissimi problemi con la facecam! Ho provato a registrare un video di Minecraft con la facecam, giusto per vedere, e ho tantissimi problemi con l'editing perché non riesco a cantasia, mi si bugga, tipo, non so, non mi riesce a renderizzare il video come voglio io Quindi ho provato a scaricare un software che registra solo la mia faccia, così registravo con una cosa, lo schermo e con l'altra la faccia però non ci sono riuscita perché la cosa che ho scaricato praticamente va pagata cioè mi fa fare certi video ma a qualità bassa, se cerco di usare la qualità la devo pagare e ho cercato altri software ma prima non avevo tempo di scaricarli secondo non ne ho trovati tantissimi e quindi chiedo a voi, se conoscete qualche maniera per registrare la facecam o magari mi aiutate con cantasia, scrivetelo nei commenti, vi prego, perché io voglio davvero metterla ma non so perché sto avendo questi problemi con cantasia e non trovo software gratis o magari qualche software craccato da craccare che conoscete voi, non lo so, ditemelo nei commenti e quindi oggi siamo su Unfair Sonic, Unfair Sonic è un rage game, cosa vuol dire rage game? Rage game vuol dire che praticamente uno di quei giochi che tu li guardi, provi a giocare e scappi scappi perché è veramente, 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 veramente impossibile e non sto scherzando perché ho provato a fare il primo livello, ma solo il primo perché per il resto volevo giocarlo con voi ed è impressionante, è difficilissimo quindi iniziamo ah no, prima di iniziare devo ringraziare Saul perché devo ringraziare Saul? non ne ho idea, sinceramente non ne ho assolutamente la più pallida idea e mi ha chiesto di ringraziarlo, quindi grazie Saul e ciao Saul e devo anche salutare un altro ragazzo che me l'ha chiesto, ovvero Andrei me l'ha chiesto su Twitter, ciao Andrei, ti sto salutando adesso bene, ora possiamo cominciare dopo aver fatto i vari saluti vai ok questo lo farò abbastanza in fretta perché diciamo che mi ricordo più o meno dove si trovano le trappole in questo ehm, no cazzo ecco infatti, dicevo, lo farò abbastanza in fretta perché so dove si trovano le trappole e certo, e muoio mi pare una cosa normale, ma sì, ma dai così, ok e infine così ok, questo me lo ricordavo che ho fatto mille volte per il... bene ecco, già partiamo malissimo partiamo davvero malissimo allora, ok eh ma va, ma allora sei stronzo ma perché? ma scusami eh, scusa, ora dovete mandare secondo la tua testa che culo mio dio, che culo cioè, una... no, vabbè, ho un culo stratos... ora cado, io lo so ma cosa? perché? ma io dovrei morire vabbè, la logica dei videogiochi sono su delle spunte per non muoio, vabbè ma vaffanculo allora, così 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 mamma mia, mamma mia si distrae... è così eh, ma allora sei... ma vabbè, sto figlio di... ma perché? ma chi me l'ha chiesto... ma chi me l'ha detto di fare questo gioco? allora, vai vai lì bravo eh, non so se salirsi o meno qua va bene, sì dai, ci saliamo che culo! nooo ma dai, ma chi l'aveva visto? cioè, chi l'aveva visto? non si poteva vedere, però cioè, non potete ammettere cose che non si vedono guardate che io vi denuncio, eh ma nooo ma porca miseria sembra che lo faccio apposta ma io non lo faccio apposta ok, beh, sì, vabbè chi lo vede penserà chi sta guardando questo video penserà sì, ma... sì, vabbè sì, ma è una cazzata questo gioco non ci vuole niente, no, non è vero che non ci vuole niente è più difficile di quanto voi pensiate e vi sfido a farlo, sì, vi sfido se qualcuno... allora no no, allora eh, qua che culo che culo! mio Dio, che culo non è... scommetto che se fossi caduta su quei pallini arancioni sarei morta oddio, come si fa questa... ma perché? ma almeno mettilo qualche metro più avanti non appena incomincio ok, allora eh... ora vai porca di quella miseria pesce rosso di merda guarda che chiamo il mio gatto voglio vedere chiamo il... anzi no chiamo il Giuseppe Sapio chi... chi ha visto il video di Giuseppe Sapio capirà eh... cioè, preferirebbe non... mio Dio, che culo mio Dio Dio santissimo che culo allora nooo mannaggia chiamo Giuseppe Sapio guardate che non scherzo io lo chiam... sì, vabbè io lo chiamo non sto scherzando voi non ci credete ma io sono serissima chiamo Giuseppe Sapio vi faccio mangiare tutti quanti i pesci di meme vai... vai, vai ok, in mezzo bravissima mi alloggio da su... mio Dio mi sono già vista in bocca col pesce di merda vai, vai ora vai, 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 vai ora, ora, ora ora no no lo sapevo lo sapevo lo sapevo maledetto sei un maledetto devi solo morire beh, sì ma che cacchio sei un maledetto devi solo morire malissimo ma proprio male devi morire no, ok vai, vai, vai vai ok fino a qua ci siamo così porca di quella miseria ma lo faccio a po' sì, vabbè giuro che io non muoio ma perché? quando c'è? ora bravo giuro che io non faccio a po' sta morire può sembrarlo perché le morti sono davvero stupide del tipo ehi, lo sapevi che lì c'è una trappola perché ci sia andata lo stesso? bella domanda me lo chiedo anch'io no, porca miseria mi sono già vista morta ok vai, 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 vai vai, vai vai, vai, vai ok salta sì 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 prenditelo in quel posto oh mamma mia che è sta cosa? ok allora eh eh sì però lo mettono sempre qua un po' di fantasi ok ma no porca di quella miseriaccia ora ok eh non mi preghi non mi preghi e invece mi preghi benissimo mi preghi proprio benissimo mi preghi non ho mai visto una persona che mi ma sono tipo dei pesci solo che ok 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 ma vaffanculo tu e le tue trappole di merda eh sì vabbè io odio odio questo questo gioco è cioè è bello perché ti prende però cazzo vai 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 ok vai mamma mia che culo mamma mia che culo signori ah ah ti ho sgamato di una trappola ok non l'ho fatta a posto ma vaffanbrecciolo ma vaffanbrecciolo vaffanbrecciolo lì ok vai ora salta maledetto salta salta maledetto Mamma mia che pro No non è vero non sono pro ma va bene lo stesso Ok Adesso E tipo Devo fare questo Ho vinto Ok continuiamo Così Ok mi sembrano troppo facili questi livelli E' strano Cioè per essere un rage game C'era qualcosa che non andava Mi spieghi io come faccio a capire Che quel blocco è finto No adesso me lo devi dire Madonna io ti ammazzo Qual era quello finto Era quello Ma scusa dove dovrei andare Lo sapevo Che cosa Che ho fatto Ok non so cosa ho fatto Non lo so ma ok Basta che io abbia capito come si fa Non ho idea di quello che ho fatto Madonna mi ero dimenticato Ok no non era quello che ho Non era questo quello che ho fatto Eh si vabbè Lì lì quel blocco Bravo bravo Vedi che capisci se vuoi Bravo vai piano Eh ma allora sei stronzo però Eh va che cacchio Porca misè si Non lo faccio apposta lo giuro eh Lo giuro non lo faccio apposta Non lo faccio apposta Dio mi ero dimenticata Ma dove cacchio Non sono andata Ora voi mi dovete spiegare Dove sono andata io prima Perché non trovo più Il punto In cui si salta La fortuna Del principiante Si e vai E adesso Cosa Come ci arrivo lì Cioè ho capito come devo Dove devo andare Cosa devo fare Dove devo morire No dove devo morire Dove devo morire No perché non devo morire Ma non ho capito Eh ma però me ne dimentico eh Che cacchio Ma se sono così questi livelli I prossimi Come cacchio saranno Vai 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 Perfetto Ma non so come arrivare lì Maledizione Ma 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 perché mi dimentico sempre Che lì non si può Eh sì Tua sorella La conosci? Ok Sono qui Ora dove devo andare Eh ma non capisco Allora Rifacciamolo da capo per l'ennesima volta Vai Ok Vai 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 Ok Ora dove devo andare Ve lo spieghi Ma non c'è nessun passaggio Non capisco Non so se sono stupida io oppure Serio Non lo so Ok Così Ok Ok Sì Sì Ce l'ho fatta C'era un maledetto passaggio lì Ma vaffan Non era così semplice Ok Ma vaffan Ma perché dobbiamo No Che cos'è questo No io muoio Cioè muoio subito Già da adesso Cosa devo fare Spiegatemelo Ok No La logica No la fisica dei videogame Bellissimo Io sto Che cu No invece no Eh sì che cazzo Allora La fisica dei videogame Ve la faccio vedere Io sto Praticamente Io sto praticamente Vaffanbreccio Ce la sto anche facendo Io sto ferma Però il coso si muove Spiegatemelo un attimo Eh sì Eh sì va bene Due volte Cosa devo Eh sì ma vabbè Ok questo livello Sarà tipo impossibile No impossibile È troppo Troppo semplice Ok 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 Te lo sapevo Non ti volevo prendere Proprio per questo Ok Te non ti prendo Perché sei un falso Io lo so Ne sono sicura Ok Ok Cosa Ma cos No ma siamo pazzi Come si fa una cosa del genere No è impossibile Voi mi prendete in giro Mi state prendendo in giro È una candid camera Uscirete voi Tutti contenti Urlando Scherzetto No è impossibile È impossibile Ma cosa Ma cosa volete da me Ma come la faccio Una cosa del genere Io Cioè Questo È ancora ancora Fattibile Ma questo No Eh già muoio Cioè nemmeno arrivo Già muoio Non posso nemmeno saltare No È È una cosa impressionante Non so se riesco a farlo Eh sì vabbè Vai ora No Allora Ora Ok Ora Ora Vai Grande Charlie Grande Vai con Vai con calma Non arrabbiarti Anche se volessi urlare Tutta la tua rabbia Non lo fare Ma riesco tipo No Non riesco tipo Non riesco tipo a fare Proprio un bel cacchierello Di nulla Ma no Ma come sono morta Odioso sei Eh Che cacchio Vai No Non andartene ti prego E se ne è andato E lo sapevo E lo Lo sapevo fottutamente Lo sapevo Fottutamente Ok vai Non è Non è Cioè Non è Chissà quanto complicato Ma Ci sono quelle pallucce bastarde Che No No Ma perché Ma perché Si bugga il gioco E ci vado di mezzo io Maledetto Ok Ok questa parte è abbastanza semplice Da superare Il pro Il problema È quella parte con le pallucce Che si vabbè Dico una cosa E la smentisco subito dopo morendo in un modo alquanto ridicolo Comunque Eh sì però Siate clementi con me Ok vai Piano Devi andare piano Cioè Eh sì Piano E vado Con una pazza scalmanata Perché Mi sono davvero Innervosi Eh ma perché No è impossibile ragazzi Questo Questa parte è davvero impossibile Vabbè ragazzi Eh Non riesco davvero proprio a fare questo livello È impossibile secondo me Non riesco In nessuna maniera Ci sono sempre delle palline che mi buttano giù O pre Mi uccidono E dato che mi sono innervosita Non ho voglia di finirlo Quindi Questo è Run per Sonic Eh Probabilmente questo era l'ultimo livello Perché mi sembra di ricordare che Questo fosse il finale Boh non ricordo bene Vabbè comunque In ogni caso Se ce ne sono Riproverò Poi quando mi calmerò Perché adesso sono tutta arrabbiata Comunque Se ce ne sono altri Ehm Cercherò di superare questo E farò anche gli altri Altrimenti Questo è stato Run per Sonic Spero vi sia piaciuto Anche se sono noiosa Eh Se vi è piaciuto Ma non credo Lasciate un mi piace Un commento E Ci vediamo nel prossimo video E Grazie per la visione!